Onorevole Malavasi, la richiesta di Soleterre incontra una sensibilità che c'è anche un lavoro già avviato in Parlamento con questa proposta di legge per lo psicologo di base, è veramente solo una questione di fondi? Sì, è una questione di fondi anche perché mettere uno psicologo in onore di stato sanitario richiede comunque milioni di euro di risorse quindi oggi stiamo definendo non tanto un testo che è già stato condiviso e votato comunque dalla Commissione Affari Sociali della Camera ma la copertura economica, dobbiamo definire in base alle risorse quale sarà la capillarità della figura questa mattina da sanitario veniva chiesto di mettere uno psicologo ogni 1500 abitanti, è una percentuale comunque molto alta non credo che arriveremo lì, però dobbiamo comunque avere più risorse possibili per rendere più diffusa possibile questa richiesta ne va del benessere delle persone e anche del diritto alla salute dei cittadini il tutto all'interno di un quadro, di un sistema sanitario nazionale che chiede un cambio di rotte importante e repentino per salvaguardare il diritto alla salute di tutti noi